Allora, oggi mi piacerebbe presentarvi un po' quello, diciamo, che abbiamo già visto in altri webinar che avevamo accennato anche con la Geek proprio circa due anni fa. Con oggi, in una breve presentazione, vi racconto quelle che possono essere le novità che sono successe, perché possono essere novità interessanti, soprattutto per chi poi si prepara e studia in questo ambito. Quindi parlo sempre nel settore blockchain e vi presento un attimo quella che è la tokenized economy, o tokenizzazione o security token. Quindi parliamo di una tecnologia che sta diventando sempre più attiva anche come collegamento con le aziende, con quelli che possono essere poi le realtà aziendali che vogliono iniziare a scoprire come utilizzare la blockchain non solo per il hype di marketing, per token tradizionali, ma per creare appunto una forma di token che abbia un qualcosa di concreto. Quindi creare una struttura che permetta di essere veramente digitalizzata. Cos'è in sé la tokenizzazione immobiliare? Quindi se andiamo poi nella slide successiva, vediamo come la tokenizzazione diventa un elemento fondamentale all'inizio nel mondo immobiliare, quando in sostanza si studiava come rendere delle strutture immobiliari digitalizzate. La tokenizzazione è un concetto che nasce in un altro modo e con un'altra parola, per esempio in Italia e in Europa, come un po' la cartolarizzazione. Cos'è la differenza fondamentale di questo elemento, quindi di questo token? La differenza del token è che è un oggetto trasferibile, quindi è un oggetto digitale trasferibile che semplifica appunto il trasferimento da un punto all'altro, da una persona all'altra. Ormai dopo diversi anni, più di 12 anni che esista la blockchain, sappiamo che tutto questo mondo qua è un mondo che è andato in mano a tanti giovani, a tanti professionisti, a tanti esperti che hanno iniziato a sfruttare la movimentazione dei token, all'inizio a fini speculativi con l'onda di bitcoin, adesso inizia a prendere forma anche la tokenizzazione come oggetto più business, più orientato anche alle imprese. Perché la tokenizzazione è un argomento che secondo me può diventare importante, perché nella blockchain abbiamo visto quello che si dice l'AIP, quindi la moda, la tendenza che si è creata col mondo all'inizio degli utility token, nel settore dell'SEO, prima con i payment token come bitcoin e ethereum, quindi più nel 2016, quegli anni lì, e abbiamo visto la moda che esplosa nel mondo degli NFT, delle quotazioni e tutto quello che ci poteva star dietro, la tokenizzazione è un trend che c'è, è un trend molto lento, perché è un trend legato alle aziende, non legato alle persone. Quindi la tokenizzazione punta veramente a fare in modo di creare un qualcosa che trasformi, un processo che prima era più complicato, per esempio a livello finanziario, lo trasformi in un mondo digitale, senza tuttavia però andare a perdere quelle che sono le regolamentazioni. Quindi dopo lo andremo a vedere nelle slide successive, credo che proprio uno dei motivi per cui la tokenizzazione, quindi il creare un oggetto digitale assoggettato a un bene reale, sia ancora un AIP lento, una tendenza lenta, proprio perché bisogna seguire tutta quella che è la parte normativa, con studi legali e studi notarie per riuscire ad arrivare al risultato. In particolare la tokenizzazione porta il concetto di frazionamento, quindi il frazionamento è un qualcosa che diventa un elemento fondamentale nei progetti di azienda. Nella slide successiva possiamo vedere come, quando parliamo di frazionamento, parliamo di frazionamento, per esempio di asset reali, quindi la cosa importante è riuscire a comprendere qual è l'asset che vorremmo andare a trasformare in digitale e poi studiare come andare a suddividerlo in piccole porzioni. Per darvi un'idea c'è un'azienda negli Stati Uniti che ormai da più di cinque anni acquista piccoli appartamenti e fa un frazionamento digitale che vende in tutto il mondo, quindi chiunque vuole investire può entrare direttamente in queste piccole frazioni digitali, un po' come in Italia l'abbiamo conosciuto con il crowdfunding immobiliare. Cos'è la differenza? Il crowdfunding immobiliare utilizza ad oggi tecnologie che sono legate alla piattaforma dell'azienda che fa la raccolta di capitale. Domani la tecnologia sarà solo quella di emissione del token, quindi l'infrastruttura, possiamo chiamarla, di trasporto, dell'investimento della frazione digitale sarà la blockchain. Semplifica molto, semplifica perché la proprietà della vostra frazione digitale, quindi diciamo quel millesimo di quell'appartamento che avete comprato, sarà sui vostri wallet e quindi deterrete il possesso di quel bene digitale. Legare la tokenizzazione al crowdfunding dal mio punto di vista sarà uno dei successivi passaggi perché permetterà di creare un potenziale reale mercato secondario. Chiaramente l'obiettivo è sempre a step perché siamo proprio addirittura d'arrivo su delle leggi sul crowdfunding in Italia che andranno in cambiamento comunque con la fine dell'anno e a seguire ci sono apposta degli allineamenti anche sulla parte tokenizzazione e siamo proprio in un momento, mi piace parlare d'Italia perché fino all'anno scorso potevamo portare questi casi solo per la Svizzera perché la Svizzera ha normato nel 2020-2021 questo tipo di tecnologie attaccate agli asset reali, l'Italia da quest'anno è diventata componente attiva di questa partita quindi seguendo a ruota le normative dell'Europa ha iniziato a creare la propria legge. Dopo andremo a vedere nel dettaglio questa parte qua perché è proprio quella che fa capire che formandosi e imparando questo tipo di attività anche in Italia si può iniziare a lavorare o a investire o a diventare imprenditori nel settore della blockchain e della tokenizzazione. Un esempio che è nato sul mondo della tokenizzazione che sta prendendo piede quindi oltre a questo concetto di frazionamento è il concetto dell'andare a seguire il mondo della green economy. Abbiamo parlato per più di 5 anni del settore del frazionamento dei beni immobiliari adesso andando sulla slide successiva vedrete quello che c'è cioè il concetto di nuova economia green e tokenizzazione della green economy quindi comprendere che siamo partiti cercando di descrivere un bene reale, tangibile e renderlo in digitale adesso la tokenizzazione con la green economy punta anche a beni non tangibili. Quindi i primi passaggi sono stati la valutazione di come poter tokenizzare dei terreni che potevano dare dei rendimenti agricoli quindi stiamo ancora un po' sul mondo del materiale parliamo non più di immobili, parliamo di terreni ma subito dopo si è arrivati a dire si possono andare a tokenizzare quelli che oggi sono i famosi crediti di carbonio argomento che con tutti i protocolli green di cui si sta parlando l'ESG, tutto quello che ci sta dietro a questa green economy sta diventando interessante perché è la tokenizzazione anche di beni che diventano che nascono quasi come strumenti finanziari immaginatevi che l'immobile diventa digitale diventa più semplicemente scambiabile ma anche un credito di carbonio diventando digitale potrebbe essere più semplicemente scambiabile oppure il concetto può essere la compensazione in un mercato dove può esserci compensazione tra chi produce emissioni e chi riduce emissioni quindi una negoziazione come può essere fatta con un trading di token tradizionali di utility token questa è la tokenizzazione sulla green economy e quindi sui crediti di carbonio è un argomento che abbiamo visto in diversi progetti di ICO però erano progetti che non avevano una correlazione con la struttura reale del bene quindi con l'asset del bene la tokenizzazione, i security token in questo mondo è proprio collegato al fatto che ci deve essere un sottostante reale è più assimilato al mondo delle stable coin dove sappiamo che per emettere un dollaro bisogna avere un sottostante di almeno un dollaro quindi nella tokenizzazione quindi nei security token questo elemento è importante immaginatevi di essere in possesso di mille crediti di carbonio potete decidere di creare mille token mille security token che puntano a essere trasferibili in maniera semplice i crediti di carbonio un po' come i token nel settore blockchain hanno avuto delle salite fino a 100 dollari di valore per scendere a 10 dollari, 20 dollari quindi hanno fatto anche loro delle salite e delle discese economiche molto importanti e la cosa interessante è capire come sfruttare questo concetto oggi è un mondo in cui si può progettare nuove economie si può diventare imprenditori si può creare un po' di tutto ed è diventato in maniera interessante un business internazionale perché è un business internazionale? vi dicevo che io per iniziare a lavorare nel settore della blockchain mi sono spostato in Svizzera ormai nove anni fa perché era dove si poteva operare nel mondo blockchain e soprattutto nel mondo security token adesso nella slide successiva vedrete quelli che sono gli stati che hanno iniziato a normare il mondo dei security token quindi non parliamo di blockchain in generale parliamo proprio di tokenizzazione mi è piaciuto partire dal concetto dell'Unione Europea quindi il 23 marzo del 2023 l'Unione Europea ha tirato fuori i primi regolamenti sulla tokenizzazione spiegando cos'è, come funziona assimilandoli a un certo concetto a strumenti finanziari l'Italia ruota 15 maggio 2023 quindi parliamo veramente a livello di era tecnologica perché ha più di 12-13 anni di blockchain adesso ci troviamo dopo diverso tempo a poter iniziare a studiare questi argomenti gli Stati Uniti io vi parlo delle ultime leggi che diciamo tendono ad abilitare il sistema gli Stati Uniti anche loro avevano iniziato un po' prima ma nel 2023 hanno chiarito determinati punti sulla tokenizzazione quindi già vedete che volevate fare impresa su security token formarvi, diventare esperti, consulenti nell'ambito blockchain fino all'anno scorso rischiavate comunque di dover distanziarvi dall'Italia o dalla comunità europea Singapore la prima legge sulla tokenizzazione è del 2020 nel 2023 ha fatto una forte rettifica e ha potenziato ed è diventata uno dei primi tre Stati a livello di normative insieme alla Svizzera e a San Marino tra gli Stati dove è più semplice fare tokenizzazione immobiliare la Cina che aveva fatto il ban del mondo dei miners quindi non si capiva il loro posizionamento rispetto al mondo della blockchain la tokenizzazione l'ha delimitata come regolamenti per cui è riuscita a definire un act, un paper che descrive come la tokenizzazione su asset di blockchain deve essere definita Svizzera 2021, San Marino 2022, Malta 2022 gli Emirati Arabi hanno delle linee che stanno nascendo nel 2023 però comunque già da fine dell'anno scorso si poteva iniziare a ragionare sul mondo dei security token il Giappone ha seguito nel 2023 Regno Unito con l'FCA sta definendo tutte queste regole subito a seguire da quelle che sono state le applicazioni della comunità europea il Regno Unito è partito prima della comunità europea ma a un certo punto ha fatto un po' come la Svizzera ha dato più libertà nell'operare e ha messo meno regolamentazione la comunità europea ci ha messo di più ha dato regolamentazioni più definite e adesso il Regno Unito dovrà completare determinate regolamentazioni per far partire questo tipo di ambito però vedete come è tutto molto recente parliamo di uno storico di 3-4 anni tutti quelli che erano i progetti precedenti noi ne abbiamo seguiti alcuni a partire dal 2019 erano progetti davvero sperimentali perché bisognava sedersi al tavolo con gli avvocati la parte notarile comprendere bene quali erano pro, contro e rischi di impresa il Canada anche loro ha ruota con gli Stati Uniti l'Australia l'Australia oltre ogni aspettativa ha creato una normativa molto velocemente la Corea del Sud che è uno stato molto molto attivo nel settore blockchain e cryptocurrency ha valutato di introdurre la definizione di security token nel loro act collegato alla blockchain Taiwan, il Brasile, l'Argentina e adesso aspettiamo al 2024 quali saranno gli Stati che inizieranno a introdurre questo tipo di possibilità vedete come nel giro di due anni si sono aperte si è aperto il mondo dell'economia perché una volta che vedete Unione Europea, Stati Uniti, Cina comunque avete Emirati Arabi avete il 90% del valore economico del mondo quindi ormai questa tecnologia è diventata applicabile e si può pensare di fare impresa il fatto che sia nato tutto adesso non vuol dire che siete pronti per poter essere subito attivi in questi settori ci vorrà ancora un po' di rodaggio un po' di tempo ma è interesse di tutti definire le regole sui security token anche perché queste regole dopo lo andremo a vedere hanno degli scopi ben precisi se scendiamo un attimo in dettaglio alcuni esempi normativi mi piace non sono un avvocato ma collaboro con diversi studi mi piace farvi vedere quelle che possono essere i contenuti normativi che poi magari qualcuno può segnarsi andare a studiare questi sono i principali dove gli utenti possono andare a verificare quello che vi sto diciamo un po' spiegando il regolamento europeo è iniziato nel 2022 ed è l'858 ed è applicato a tutti gli stati membri quindi crea un regime pilota per la tokenizzazione di strumenti finanziari vedete la terminologia tokenizzazione di strumenti finanziari quindi sono partiti in maniera da focalizzarsi al concetto di creare prima di tutto lo strumento finanziario tokenizzato strumento finanziario ce l'abbiamo già quali devono essere le regole per tokenizzare quindi è uno spostamento verso la digitalizzazione verso il fatto che lo strumento finanziario diventerà ancora più digitale ancora più trasferibile e quindi creare un nuovo modello comunque vi invito se questa cosa vi incuriosisce andare a vedere questo regolamento europeo perché sicuramente non è qualcosa da prima lettura va riletto diverse volte ma dà delle informazioni interessanti e vi fa vedere anche come la comunità europea ha creato un team di esperti per riuscire a descrivere questo regolamento subito a seguire c'è la legge 25 del 2023 che definisce e spiega come deve essere fatta l'emissione di strumenti finanziari digitali o meglio tokenizzati si parla in Italia giustamente per mantenere la nomenclatura italiana di registro distribuito in inglese avremmo detto tecnologia DLT blockchain ma chiaramente su un decreto legge è importante utilizzare poi il nome italiano subito dopo abbiamo la SEC che ha spiegato negli Stati Uniti come vede la tokenizzazione immobiliare questa la SEC l'avete sentita per tante per chi è nel settore blockchain nelle cripto in tutto questo mondo qua sa che tutto passa da lì tutto quello che accade negli Stati Uniti fallimenti licenze ETF aziende come Coinbase che devono essere regolamentate passa tutto dalla SEC quello che è un po' più sconosciuto in europei è la guida del MAS quella che spiega come le aziende a Singapore operano nel mondo della tokenizzazione ed è comunque un qualcosa di interessante perché invece la parte asiatica si è più focalizzata sul concetto di asset non finanziario quindi mentre Europa e Stati Uniti parla di elementi finanziari che diventano tokenizzati perché di base dicono una tokenizzazione è un qualcosa che si trasforma in elemento finanziario un asset finanziario mentre l'area asiatica la interpreta in maniera diversa perché dice questa guida fornisce orientamenti alle aziende che intendono tokenizzare i propri asset quindi parte dal concetto di azienda la stessa la Cina è molto più orientata all'azienda piuttosto che a parlare di finanza questo è uno spostamento fondamentale perché a seconda di dove dovete portare il vostro progetto è importante che lo portate in un in un luogo in un posto che vi permette di fare quello che dovete costruire non vuol dire che dovete spostarvi a Singapore o in Cina per creare quel tipo di attività o far partire l'attività però è giusto che sappiate che le regolamentazioni poi seguono anche quello che è l'obiettivo del vostro progetto imprenditoriale o personale che sia volendo entrare proprio in nel concetto italiano la legge 25 del 2023 vi riporto il link alla gazzetta ufficiale e vi invito anche a andare a darci una lettura se vi interessa l'argomento rappresenta e spiega le missioni di strumenti finanziari digitalizzati la legge definisce gli strumenti finanziari digitali come qualsiasi strumento finanziario che è rappresentato o incorporato in un token digitale quindi iniziamo a concedere questo concetto di token digitali anche in Italia e l'abbiamo visto negli ultimi 12 mesi come tante cose sono cambiate come si inizia a pagare di dichiarazione fiscale di pagamento delle imposte di tutto quello che ci sono c'è dietro a questa cosa uno dei principali aspetti è riuscire a capire questa legge perché nasce la legge nasce soprattutto per soddisfare delle esigenze dei requisiti fondamentali uno dei principali requisiti è che l'autorità competente deve poter dare delle linee guida e anche fare vigilanza su quello che succede per cui riuscire a capire come interpretare dei comportamenti imprenditoriali comportamenti che possono essere sani o mal sani questo in tutti i settori ma una legge permette di far capire se quello che si sta facendo è corretto o non corretto quindi definito il perimetro sul territorio italiano la cosa importante che ci sta è anche avere un'autorità competente questa legge nella gazzetta ufficiale spiega poi in maniera diciamo oggi ancora secondo me un po' vaga da quando riusciremo poi a veramente impugnarla e utilizzarla in maniera imprenditoriale senza nessun dubbio però fa capire quali sono le autorità competenti che ruolo può avere la parte di Banca d'Italia di Consob di chi fa tutto questo tipo di sorveglianza controllo e regolamentazione ma tutta questa legge e in principale anche le leggi della SEC degli Stati Uniti si basano su un concetto fondamentale che è la protezione degli investitori quindi io quello che dico è in ogni progetto di security token bisogna partire non dall'alto verso il basso ma dal basso partire dal piccolo investitore capire il piccolo investitore che rischi ha nel progetto di tokenizzazione più il rischio per l'investitore aumenta più il rischio di progetto è alto questo è un elemento fondamentale nell'analisi del sistema perché finché parliamo di tokenizzazione immobiliare allora parliamo di qualcosa che anche all'investitore può essere chiaro quanto vale un immobile sa andare a stimarlo sa andare ad apprezzarlo e quindi l'investitore diventa cosciente del progetto che sta sottoscrivendo immaginatevi quando prima nella green economy avevamo parlato di un campo quindi come fa un investitore a capire quanto può rendere un campo di frumento per esempio o che capacità di assorbimento del CO2 può avere una piantagione di betulle deve essere un qualcosa di essere un investitore esperto quindi non solo un investitore esperto a parte economica e di rischio economico ma anche dell'ambito del settore quindi questa legge ma in generale le leggi principali di quella italiana in primis a seguire quella americana e dopo quella europea puntano sulla protezione degli investitori quindi chiedetevi sempre se il vostro progetto di security token o l'azienda per cui andrete a lavorare che fa questo tipo di attività a un progetto che potrebbe danneggiare l'investitore perché in quel caso tutto si ribalta tutto diventa un progetto che difficilmente riuscirete a portare avanti e diciamo trasformare in un progetto facilmente spiegabile verso l'autorità di vigilanza quindi questa è un po' la spiegazione che c'è sul mondo della tokenizzazione vorrei andare avanti sulla parte di di conclusioni per spiegarvi proprio in in breve la la parte di tokenizzazione per come la vedo oggi questo mondo è un mondo io dico immenso perché perché si basa sul concetto del bene reale quindi capire sul bene reale come poter trasformarlo in bene digitale può seguire tantissime regole perché la tecnologia vi permette di dare sfogo alla creatività per darvi un'impressione pensate quando voi andate a tokenizzare un immobile un immobile può avere tantissime forme come modello di rendimento quindi andate a decidere che una palazzina con 12 appartamenti viene frazionata può essere frazionata per area di appartamenti o come un'unità di palazzina quindi già bisogna fare le prime decisioni poi bisogna decidere se il token digitale che verrà creato darà un dividendo per esempio sugli affitti oppure darà un dividendo per esempio sulla vendita quindi acquistato l'immobile magari ristrutturato mantenuto 8 anni darà solo la parte di dividendo senza la parte di rendimento oppure immaginatevi un token che permette di ottenere più elementi quindi collegato per esempio all'affitto a breve termine ogni volta che uno dei 12 appartamenti viene affittato a breve termine l'investitore riceve un piccolo pagamento della porzione di quello che è stato prenotato quindi microtransazioni che arrivano continuamente all'investitore quindi possono essere tanti modelli che si possono creare e qui stiamo parlando solo del mondo immobiliare quindi di un solo settore in un solo settore economico nel mondo dell'immobiliare per darvi un'idea non abbiamo visto più di 14 15 modelli economici che si possono applicare alla tokenizzazione immobiliare immaginatevi nel mondo della green economy prima abbiamo parlato del campo dell'assorbimento del CO2 ma esiste anche il mondo fotovoltaico quindi della green energy dell'eolico di tutto quello del settore di biomasse tutto quello che può essere un qualcosa che crea un valore o di proprietà o di trasferimento economico la tokenizzazione permette di andare a semplificare questo modello ci tengo a dire una cosa il vero valore tante volte dei progetti di tokenizzazione è proprio l'asset reale non è la tecnologia la tecnologia diventa solo uno strumento per migliorare un processo precedente quindi un'analisi che facciamo sempre quando andiamo on site da un'azienda per studiare questa esigenza proprio dire non possiamo fare un progetto di tokenizzazione che costa di più dell'asset reale quindi immaginatevi un progetto di tokenizzazione è comunque un progetto che deve avere un valore come sottostante reale almeno di 500 600 mila euro per darvi un'idea meglio progetti da 1 o 2 milioni perché a quel punto la tecnologia impatta impatta un 5-10% quindi valori tra i 50 e i 100 mila dollari di progetto questi sono i livelli di valore sui security token perché sotto questi valori si ha difficoltà a trovare dei professionisti anche non solo sulla parte tecnologica ma anche sulla parte legale notarile ci sono proprio dei costi effettivi da sostenere e sopra immaginatevi se un progetto di security token dovesse costare 300 mila euro su un immobile che ne vale 500 mila automaticamente la digitalizzazione fa perdere senso al progetto nei criteri ESG si parla proprio nel mondo green di creare progetti nel mondo green che abbiano una sostenibilità economica nel settore blockchain questa cosa qua noi la analizziamo comunque anche non essendo un settore green diciamo quello che andiamo a portare agli imprenditori che sia una consulenza che sia un'esperienza che sia proprio un progetto dalla A alla Z deve essere comunque commisurato a quello che poi è il vero valore economico del progetto quindi io credo che uno dei veri limiti della tokenizzazione oggi come oggi è il valore dell'asset reale che deve essere enorme però immaginatevi oggi come sta funzionando il mondo come gli asset reali sono diventati sempre più cari sempre più importanti l'inflazione creerà ancora un momento di rialzo degli asset reali quindi tra qualche anno gli immobili abbiamo visto come in città come Milano Roma sono saltate di prezzo sono aumentate in questo caso qua la tokenizzazione prenderà subito più senso perché la parte digitale tende a costare di meno mentre la parte di asset reale tende a costare di più questa è una breve conclusione anche per chi vuole seguire un po' diventare un po' imprenditore in questo settore e capire quali sono le chiavi su cui si sta lavorando diventare un po' diventare un po' Grazie.